Buongiorno a tutti bentornati a Balconi TV Trieste oggi siamo in compagnia di Sagni conosciuto come Bunny. Welcome to the show Bunny. Thank you very much. So what are you going to play for us? I will play a song of mine that it's not yet on the market it's not outside but I will try to represent in the best way possible of course. Excellent, take it away man. musica Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Something's coming, something's cool Some people hate, some people love But fly we don't, burn in desire Something's coming, something's cool Some people hate, some people love Some people hate, some people love But fly we don't, burn in desire Yes, ugly Yes, ugly Yes, ugly I believe, ugly, 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 ugly Yes, ugly Oh yeah, it was groovy, groovy sound for windy weather Sì, è vero. Cosa c'è una specifica record o record che ti inspira, che ti convinceranno che questo era il suono per te? Sì, ho cominciato con la blues in prima volta, ma ho trovato la guitarra molto tardi, a 18 anni o 19 anni, non è sicuro. Perché mio papà giocava la guitarra e la fisharmonica, non è sicuro. Quindi mio papà è stato il primo più grande influente, che mi ha fatto funzionare in questo modo. Quindi ho accettato la blues come la mia ruta per tutto il resto, con la mia musica. Sì, è vero. Sì, hai scelto giocato in USA? Sì, sì. Cosa era l'esperienza? Cosa era l'esperienza? Cosa era l'esperienza? Cosa era l'esperienza? Cosa era l'esperienza. 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 Cosa era l'esperienza visualmente. Il sonno, i le persone, la approcci. Perché ho avuto la possibilità di vedere come gli americani ozano. faccio la cosa, perché è un mondo diverso. In Memphis, Tennessee. Sto rappresentando la Croazia in questo internazionale blues festival, molto famoso. È già 30 anni che sta succedendo, ogni anno. Quindi come è la scena blues in Croazia? Sì, la scena blues, per essere sincero, c'è una scena blues, ma magari non è così popolare, o magari la media non dà tanto attenzione a blues artisti in generale in Croazia, ma è una vita difficile, con la musica, ogni volta e ogni volta. Hai alcuni record per promuovere? Per essere sincero, ho fatto un EP, o tre cani, che sono sui sul mercato, sotto la label Spona, di Zagreb, Croazia. Under il tuo nome? Sani Banicban, ma è solo digitale, quindi non ho questo fisico, c'è una cosa musicale, ma sto lavorando su questo, quindi è venuto. Buon successo con questo, Bani, è stato davvero buon parlare con te, e per averci qui, su questo bellissimo balcone, su questo vento. Grazie molto. Marco Valva, Bani, alla prossima da Balcony TV Trieste. Ciao! Ciao!